Ascoltate con l'orecchio del cuore, è questo il tema scelto per la 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che sarà celebrata il prossimo 29 maggio. I dettagli nel servizio. Ascoltare con l'orecchio del cuore, è questo il tema centrale del messaggio di Papa Francesco per la 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che sarà celebrata il prossimo 29 maggio. Nella sua riflessione, che scava nel profondo dell'animo umano, il Pontefice sottolinea che essere ascoltati è il bisogno più grande di ciascuno di noi. Ma non si tratta di un semplice sentire, tantomeno di origliare o spiare, bensì di ascoltare con l'orecchio del cuore. Sia nei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile, le persone stanno smarrendo la capacità dell'ascolto. E' questo il paradosso dell'uomo moderno, sempre più coinvolto nella crescita del suono condiviso e della comunicazione vocale, determinata dalle nuove tecnologie. Secondo Papa Francesco, l'ascolto non riguarda solo il senso dell'udito, ma tutta la persona e ha come sua vera sede il cuore. Il primo ascolto da riscoprire quando si cerca una comunicazione reale è l'ascolto di sé, delle proprie esigenze più vere, quelle inscritte nell'intimo di ognuno di noi. E non si può che ripartire ascoltando ciò che ci rende unici nel creato, il desiderio di essere in relazione con gli altri e con l'altro. Non siamo fatti per vivere come atomi, ma insieme. L'ascolto è la prima forma di comunicazione come premessa per costruire relazioni autentiche. Questo concetto vale anche per la Chiesa a maggior ragione durante il processo sinodale, perché nell'azione pastorale l'opera più importante è l'apostolato dell'orecchio, ascoltare prima di parlare dunque.